Cos'è questo? Questo è un uovo. Cos'è questo? Questa è una penna. Cos'è questo? Questo è un pesce. Questo è un pesce. Questo è un pesce. Sta dormendo? Is he sleeping? Sì, lui sta dormendo. Sì, lui sta dormendo. No, non sta dormendo. No, she is not sleeping. 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 No, she is not sleeping.